Tiziana Merici, Presidente del Consiglio Comunale, una inaugurazione che era attesa da tempo? Sì, da tempo ce n'è voluta, però alla fine l'importante è raggiungere i risultati e questo è sicuramente significativo, durerà nel tempo e renderà questo quartiere carissimo ai pollesi ancora più accessibile, ma soprattutto un monumento nazionale come il Convento di Sant'Antonio, accessibile ancora di più, nonché la cittadinanza tutta. Il sindaco Massimo Oloviso è toccato alla tua amministrazione, alla tua giunta, portare a compimento questo lavoro che era atteso da anni qui a Polla, un pizzico d'orgoglio c'è? Sì, c'è un pizzico d'orgoglio mio della intera amministrazione per aver sopportato anche tanto lavoro, duro lavoro, tanti sacrifici, tanti disagi sia come amministrazione, ma soprattutto con i cittadini residenti qui nel quartiere di Sant'Antonio che davvero hanno dovuto sopportare per alcuni anni le problematiche inerenti il viadotto. In verità il progetto è un progetto che viene da lontano con l'amministrazione guidata dall'allora sindaco Rocco Giuliano, ma che ha avuto la sua realizzazione attraverso la mia amministrazione. In verità nel 2004, dopo 20 giorni dal mio insediamento, mi trovai con la problematica del viadotto Sant'Antonio in quanto fui costretto ad emettere ordinanza di chiusura totale sia al traffico veicolare che pedonale ed era l'unica via d'accesso al quartiere Sant'Antonio. Quindi ovviamente non voglio ricordare quei momenti, sono stati momenti molto duri, difficili, non solo per chi parla ma ripeto anche e soprattutto per i cittadini che hanno dovuto davvero sopportare parecchi disagi.